bene salve buongiorno a tutti benvenuti al consueto appuntamento del fine settimana dove oltre ad verificare quello che è successo durante il corso della giornata in seguito poi vedremo anche come comportarci con i vari scenari che si presenteranno per la prossima settimana appunto da prendere in considerazione per opportunità di trading però il nostro appuntamento del fine settimana come ben sapete parte appunto da un'analisi in ottica prima macroeconomica prima andando un po' ad analizzare non solo quello che è successo nel mercato forex ma anche nei mercati collegati al mercato valutario ovvero al mercato diciamo alle principali piazze finanziarie europee dando spunto anche al prossimo calendario economico andando ad appunto a verificare quello che succede nella prossima settimana concentrando l'attenzione appunto sulle notizie più importanti bene no iniziamo quindi la nostra la nostra il nostro la nostra analisi video settimana partendo appunto da quello che è successo dalle borse europee cielo grigio e sulle borse vecchio continente con piazza affari che chiude un'altra seduta al di sotto il punto percentuale causa l'incertezza appunto che continua ad alleggiare sul vecchio continente la settimana degli istini europei si chiude appunto all'insegna della prudenza a francoforte il dax praticamente chiude assegnare un più 0,61 per cento mentre parigi e londra hanno rispettivamente chiuso a meno 0 11 e più 0,15 per cento causa le tens infatti causa invece le tensioni politico domestiche quelle in arrivo nel nostro paese l'indice spagnolo ibex ha terminato il rosso dell'uno del meno 1,75 per cento penalizzato dalle reazioni della notizia che il ciudandos quarto gruppo parlamentare in spagna è quantitamente fondamentale per sostenere il governo in carica di raioi ha chiesto elezioni anticipate dicendosi favorevole a un voto di sfiducia nei confronti del premier nel caso le votazioni non venissero indette a breve andiamo a verificare un po quello che è successo in particolare a casa nostro però a piazza affari che chiude male l'ottava pagando infatti l'aumento delle tensioni legate alla nascita del futuro governo movimento 5 stelle l'indice fuzzmib ha così chiuso in calo dell'1,43 per cento complici soprattutto le forti vendite sulle banche il settore appunto maggiormente sensibile alla febbre della spread nel pomeriggio di ieri lo spread btb bund ha toccato un picco a 216 punti base livello più alto da oltre 4 anni il rendimento del decennale italiano si è spinto al 2,55 per cento massimo da ottobre del 2014 mentre scende quello del bund in area più 0 40 con investitori che acquistano i titoli di stato tedeschi in virtù dell'aumento dell'avversione al rischio risk off che ha spinto anche a ribasso l'euro in forte calo soprattutto contro il franco svizzero la divisa unica europea ha toccato i minimi a quasi sette mesi contro il dollaro americano che con quest'ultimo che dall'analisi del future del dollar index quindi dal grafico vedremo tra un po' continua la sua inarrestabile marcia rialzista raggiungendo e superando in questo momento vedete nella a fine proprio della giornata al fine di venerdì i massimi da dal dal dicembre dello scorso anno e precisamente va a superare si posiziona chiude al 94 e 21 andando quindi a superare quella lasticella del 94 e 13 che praticamente è stata vedete intoccata due volte diciamo nel mese a fine settimana l'ultima settimana del mese di novembre dell'anno scorso è la prima settimana del mese di dicembre sempre dell'anno scorso in questo momento come dicevo prima siamo al 94 e 21 la settimana si chiude con una maraboso quindi con una candela piena con un corpo un unico corpo spostato al di sopra che è rotto appunto anche gli ultimi l'ultimo massimo relativo quello della del di mercoledì scorso ed praticamente si propende verso ulteriori massimi massimi che possono già essere raggiunti all'inizio della prossima settimana quindi alla fine abbiamo ancora quindi una situazione di stampo realzista quindi con una forza che continua nei confronti del dollar index ovvero il future che confronta il un la forza del dollar americano nei confronti di un paniere di valute che praticamente va ad individuare una una decisa forza al appunto continua ad imprimere quindi una forza al dollar americano nei confronti delle principali valute beh ritorniamo alla situazione legata all'italia cioè per quale motivo si profilano tempi più lunghi per la scelta della squadra di governo non ancora con ancora forti dubbi sulla scelta di alcuni nomi soprattutto nomi di castelli chiave a partire da quello dell'economia salvini e di maio continuano ad essere ferme insistere sulla nomina di paolo savona ritenuto un inquadino scomodo in via 20 settembre per le sue posizioni euroscettiche lo stesso savona ha detto che probabilmente ci sono dei vedi sul suo nome tra le banche invece come già abbiamo anticipato prima spiccano diversi chiusure negative in particolare il banco bpm meno 7 per cento che paga anche downgrade a neutral da parte di goldman sachs e poi il calo superiore al 3 per cento per intesa san baolo quasi meno 4 per cento per uniclade oltre l'effetto spread per le banche c'è da considerare il rischio legato alla flat tax prevista appunto per del contratto di governo come si vince dall'analisi del sole 24 ore la riduzione delle aliquote dal 27 e 5 al 15 20 per cento comporterebbe più svantaggi che vantaggi per le banche e guida sim mediobanca security ritengono comunque poco probabile l'applicazione della flat tax al settore poi abbiamo prima abbiamo dato l'aumento appunto dei rendimenti dei btp ritornando al discorso di prima pesa anche nei settori utili con cali superiori al 2 per cento per enel snam etterna che erano arrivate a perdere oltre il 3 per cento poco sotto la parità fca che invece nella prima parte di seduta si era mossa bene con che alzato il prezzo obiettivo appunto ad 25 euro la settimana prossima appuntamento con il nuovo piano industriale intanto appunto fca americana ha annunciato il richiamo di 4,8 milioni di veicoli a causa di un problema di software che potrebbe compromettere la funzionalità del cruise control finora ha precisato la casa di auburn hills i veicoli convolti nell'operazione non hanno registrati incidenti innescati da questa problematica poi abbiamo il ritorniamo sempre al btb bund con un focus dettato appunto da goldman sachs infatti nel report giornaliero della nota del noto istituto di rating global markets daily fanno il punto della situazione riguardo al trend lo spread btb bund affrontando anche il periodo il periodo di rischio contagio nel caso in cui appunto lo spread si posizionasse in modo convincente sopra quota 200 allora i rischi sistemici sugli asset dell'unione monetaria europea e anche al di là di essa probabilmente aumenterebbero ed il rischio sovrano per l'italia è rimasto confinato a livello locale per il momento cioè quindi nel fine settimana tecnicamente però sarebbero sarebbero abbastanza neutrali i btb a 10 anni con uno spread in area 175 200 se la retorica anti euro verrà smorzata ed il digastero dell'economia sarà assegnato a una personalità dotata di un background rilevante di un atteggiamento moderato e questo è il nostro scenario di base lo spread potrebbe tornare nel range compreso tra i 150 e 160 punti base con le posizioni short che verrebbero chiuse ma se invece il profilo del governo movimento 5 stelle lega e le dichiarazioni dei membri dell'esecutivo continuassero ad andare nella direzione di un rapporto conflittuale tra l'italia e la sua adesione all'euro allora vedremo uno scenario totalmente diverso cioè molto probabilmente potrebbe salire lo spread btb bund fino a 250 punti base a fronte di tassi appunto dei scenari verso che andrebbero a raggiungere il 3 per cento ciò andrebbe a considerare una probabilità di questi due scenari che al momento al momento diciamo secondo la gli analisti di goldman goldman sachs scelgono di essere neutrali per quanto riguarda invece wall street abbiamo assistito alla chiusura senza una direzione precisa il down jones e l'sp 500 chiudono al di sotto la parità entrambi almeno 0,24 per cento mentre l'indice tecnologico nasdaq riesce a strappare l'ultima tornata della settimana un più 0,13 per cento le news macro dell'ultima settimana della dell'ultima seduta bene sul fronte macro da segnalare che in germania l'indice ifo si è attestato a 102,2 punti a maggio il dato abbattuto leggermente il consenso degli economisti che si aspettavano la lettura a 101,9 punti invece negli stati uniti durante la sessione pomeridiana gli ordini di beni durevoli secondo la lettura preliminare di marzo sono calati dell'1,7 per cento a livello mensile deludendo le attese del consensus degli economisti che si aspettavano un ribasso meno consistente pari all'1,4 per cento l'indice di fiducia dei consumatori statunitensi elaborato dall'università del michigan invece secondo la lettura definitiva di maggio si è attestato a 98 punti dai 98,8 punti di aprile al di sotto sia del dato preliminare a quota 98,8 punti e sia del consensus degli economisti a quota 99 punti infine per quanto riguarda la politica monetaria la banca centrale inglese potrebbe rinunciare a rialzi pianificati dei tassi interesse e persino allentare la sua politica se l'uscita del regno unito dall'unione europea dovesse essere più dura del previsto appunto ha affermato ieri il governatore della BOE Mark Carney bene per quanto riguarda invece altre news focus soprattutto su l'america e la correa del nord tutti adesso si domandano ma l'incontro ci sarà prima un passo avanti poi un passo indietro quindi facciamo poi il punto della situazione ovviamente il presidente della correa del sud mon jae in si è detto perplesso e profondamente dispiaciuto che il meeting sia saltato ovvero quello tra donald trump e il leader nord coreano kim jong un sia saltato ma indicato che la denuclearizzazione della penisola coreana non possa essere abbandonata o ritardata infatti la corea del sud ha proseguito il capo di stato è determinata a proseguire il dialogo quindi con gli stati uniti il governo della corea del sud sembra secondo appunto alcuni osservatori internazionali essere stato colto di sorpresa dalla decisione di donald trump il giappone invece si è impegnato ad assieme appunto alla corea del sud e agli stati uniti a mantenere la pressione sulla corea del nord perché cambi la sua politica questo è stato dichiarato appunto dal portavoce del governo di giapponese yoshi desuga la cosa importante non è tenere un meeting in sé ma il fatto che possa diventare un'opportunità per andare verso una soluzione alla questione nucleare e missilistica e dei sequestrati ho affermato suga beh vedremo ulteriori sviluppi nel corso sicuramente nel corso della prossima settimana ora prendendo come spunto la prossima settimana appunto andiamo a vedere cosa ci offre il mercato della prossima settimana le principali indicazioni macroeconomiche partendo appunto dal lunedì 28 maggio con c'è c'è un giorno di festa lunedì diciamo è festivo sia per la gran bretagna per gli stati uniti per festa nazionale mentre invece per gli altri non c'è nessun dato rilevante quindi passiamo a martedì 29 abbiamo un unico dato alle ore 16 dagli stati uniti il rapporto sulla fiducia dei consumatori mercoledì 30 la situazione diventa un po più complessa a lunedì 50 dal giappone abbiamo le vendite al dettaglio di aprile poi alle ore 8 lo stesso dato ovvero le vendite al dettaglio tedesche poi alle 10 la variazione della disoccupazione tedesca relativa al mese di maggio e poi si passa direttamente al al calendario macroeconomico che va a condizionare la seconda parte la sessione americana con alle 14 e 15 la variazione dell'occupazione agricola adp di maggio poi alle 14 e 30 abbiamo il pil del primo trimestre americano e poi alle 16 abbiamo la decisione sui tassi di interesse della banca centrale del canada giovedì 31 a lunedì 50 dal giappone la produzione industriale della germania alle ore 8 riprenditi al dettaglio della germania di aprile alle ore 11 doppio appuntamento dalla zona euro l'indice dei prezzi al consumo di maggio e il tasso di disoccupazione di aprile poi alle 13 e 30 abbiamo la decisione sui tassi di interesse della banca centrale europea quindi qua dobbiamo fare un po di un po di un po di pazienza in più dobbiamo appunto fare un po di dobbiamo fare un po di attenzione alle 14 e 30 invece dalla dagli Stati Uniti abbiamo la richiesta iniziale di sussidio alla disoccupazione classico appuntamento di metà settimana e poi alle 14 e 30 sempre dal canada lo stesso reale abbiamo il pil sia del primo trimestre che quello di marzo poi continuiamo alle 16 dagli Stati Uniti con i contratti pendenti di vendite di abitazioni nel mese di aprile ed alle 17 un altro classico di metà settimana con le scorte di petrolio greggio bene passiamo a venerdì primo giugno prima giornata del nuovo mese primo venerdì del mese e quindi il clou diciamo la la notizia dove va a concentrare l'attenzione non solo venerdì ma di tutta la settimana notizia più importante quindi resta in un fan per all che sono sempre elaborate saranno rese note alle ore 14 e 30 ovviamente prima avremo alle 9 e 55 l'indice del direttore di acquisti del settore manufatturiero della germania nel mese di maggio alle ore 10 l'indice pmi manufatturiero di maggio alle 10 e 30 dalla gran bretagna all'indice del direttore degli acquisti del settore manufatturiero di maggio poi poi sempre durante il momento di non fan per all abbiamo il tassi di soccupazione di maggio l'indice dei direttori degli acquisti del settore manufatturiero di maggio alle 15 e 45 e chiude la settimana l'ultimo dato sempre dagli Stati Uniti con l'indice ism dei direttori degli acquisti del settore manufatturiero di maggio bene ora passiamo all'analisi abbiamo già analizzato prima il future dollar index quindi abbiamo questa situazione interessante che va un po ad chiudere la settimana con una forza una decisa forza rialzista sul future del dollar index vedete però in questo momento poi andiamo adesso ad analizzare anche quello che è successo con il nostro appuntamento best and worst ovvero un pannello di controllo presente all'interno della mql suite ovvero un insieme di strumenti interessanti che noi offriamo ai nostri alla nostra clientela quindi ai nostri clienti e tra i pannelli di controllo di solito ogni fine settimana utilizziamo anche le forze fra le singole valute e quindi non ottimo invece quindi ottimo l'analisi e lo studio con il best and worst allora in questo momento vedete abbiamo un franco che si mantiene a più 3,19 per cento ovvero praticamente abbiamo un franco che andiamo passiamo prima al settimanale la settimana si chiude appunto per il giappone al 10,13 per cento cioè ciò vuol dire che praticamente abbiamo un 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 praticamente abbiamo un il la valuta giapponese che fa la differenza ha fatto il voto vedete tra il primo e il secondo posto quindi 666 abbiamo il franco vedete che differenza cielo allo yen ha spinto parecchio questa settimana soprattutto diciamo e partire un po in sordina e poi dopo piano piano si è ristabilito e poi c'è stato soprattutto giovedì e anche ieri c'è stato ma soprattutto nel centro della settimana c'è stato un bel movimento rialzista in cavo alla all'indice giapponese alla valuta giapponese seguita dal franco è seguito poi da un dollaro australiano vedete primo secondo e terzo posto quello che invece incontri in netta contrapposizione con il la valuta giapponese è la gran bretagna diciamo la sterlina meno 9,52 per cento quindi un dato negativissimo praticamente un dato che è il più negativo in assoluto in questo momento vedete 9 virgola meno 9,52 per cento che molto probabilmente potrebbe continuare anche la prossima la prossima settimana questo poi lo vedremo quando andiamo ad analizzare tra un po le major seguito da un euro un euro che purtroppo sbanda continua a sbandare continua ad essere negativo chiude la sesta settimana di fila con tanti breakout negativi quindi dovuta sia alle questioni interne delle singole economie quindi soprattutto in primis dell'italia la questione del governo ma anche altre situazioni ma non solo anche dal contesto macroeconomico in quanto praticamente non abbiamo una situazione rosa che si profila all'orizzonte poi abbiamo in dollaro canadese che è un penultimo terzo ultimo posto meno 5,31 per cento alla fine quindi abbiamo quello che ha spino di più per questa settimana e out guard infatti siamo long abbiamo chiuso già tre posizioni long sospettato appunto dopo lo vediamo tra uno dei cross di solito io guardo le major durante fine settimana però out cad è quello da prendere in considerazione sia out cad che euro yen eccoli qua dove praticamente sono delle coppie questa si va sempre long e questa si va sempre sell ovviamente bisogna andare a trovare dei punti precisi ovvero io preferisco delle correzioni in controtendenza rispetto al treno di fondo per poi dopo rimetterci in carreggiata nella carreggiata principale bene questa è la situazione del best and worst vedete come durante la settimana abbiamo parlato di yen come lo yen è stato il vincitore assoluto su tutti i vari cross e la major a differenza invece di una sterlina dove sta eccola qua la sterlina vedete la sterlina è stata sempre debole bene questa è la situazione adesso andiamo a vedere anche che cosa ci dice il sito finviz dove appunto possiamo andare a verificare anche la le forze tra le valute partendo dal mensile siamo quasi a fine mese quindi iniziamo a trarre alcune conclusioni vedete la sterlina meno 4 e 55 quella che ha perso di più l'euro meno 4 e 21 dollaro niozerandese terzo ultimo posto mentre lo yen è quello che si mantiene positivo settimanale invece abbiamo eccolo qua uno yen l'abbiamo già visto prima con il best and worst vedete yen franco dollaro australiano ultimo posto franco penultimo euro e dollaro canadese vediamo la giornata come si è chiusa la giornata praticamente si è chiusa negativissima per il dollaro canadese per la sterlina e per l'euro questa mi riferisco a venerdì bene ora passiamo subito ad analizzare le principali major più outcard euro yen poi per quanto riguarda i cross come la consitudine andremo ad analizzarli la prossima durante il fine settimana bene vediamo euro dollaro euro dollaro diciamo che vedete è parese la movimentazione ribassista dopo aver raggiunto il massimo che io di candela della settimana qua stiamo su un grafico settimanale indicato con x precisamente nella settimana dell'11 febbraio quindi nella seconda settimana del mese di febbraio con un massimo a 125 585 poi c'è stato questo sorta di boomers questo triangolo di compressione poi il prezzo vedete come è sceso giù senza fermarsi solo praticamente nella settimana a metà maggio nella seconda settimana di maggio c'è stato questo movimento ma se andiamo a vedere vedete nelle ultime settimane nelle ultime due settimane abbiamo un breakout della settimana un altro breakout e un altro breakout addirittura quest'ultima settimana è molto interessante andare a seguire questo breakout per il semplice motivo che abbiamo un minimo che ha breakout il minimo della scorsa settimana ma non solo si è portato sotto 1 16 782 eccolo qua questo era un livello che stavo seguendo da un bel po' di tempo già aveva rimbalzato durante la settimana e poi la l'ottava si è chiusa sotto questo livello ora sotto questo livello abbiamo questa zona di demand eccola qua l'ultimo minimo vedete che è stato testato l'ultima volta durante l'ultima correzione fatta nel movimento rialzista quindi l'ultima correzione vera prima dell'ultima spinta che poi ha raggiunto il massimo di periodo poi da qua abbiamo visto prima che c'è stato questa discesa ora qui raggiungo tale fondo tale zona di demanda ovvero tra 1 e 16 e 1 15 e 50 sono circa una cinquantina di punti il prezzo potrebbe incontrare un po' di confluenza un po' di difficoltà però superata questa zona molto probabilmente ci andremo ad spingerci oltre ora diciamo al momento è un po' prematuro andare a determinare quando e dove finirà il la questa discesa però molto probabilmente potremmo sinceramente secondo alcune secondo alcune indicazioni potremmo raggiungere questo 1 e 14 1 e 13 se viene rotto lo zoccolo di 1 e 16 1 15 e 50 bene questa è la situazione tecnografica in ottica settimanale quindi rimaniamo sempre sella per quanto riguarda invece la situazione legata al giornaliero beh il giornaliero da qua si vede vedete come vi dicevo prima su 1 16 782 è stato già attestato mercoledì scorso poi giovedì candele inside e poi la rottura del di questo livello proprio venerdì dove il prezzo è andato a performare andato a fare un range di volatilità di quasi una figura siamo quasi a 90 punti quindi una bella discesa c'è stato al momento per chi ha seguito le mie indicazioni all'interno della chat telegram che gesto che diciamo con appunto il della tele trade ufficiale chat ufficial chat su telegram la nostra chat ufficiale perché ha seguito le mie indicazioni noi praticamente abbiamo ancora ancora un sell un ordine sell a mercato messo 1 2916 quindi in questo momento abbiamo già spostato lo stop loss di 200 punti quasi approfitto ed in pratica in questo momento ci troviamo con un gain momentaneo di circa 400 quasi siamo a 400 quasi 440 punti lo stop il target l'ho posizionato sotto a uno un po più sopra di 1 21 156 una prossima zona di importante ovviamente a 1 e 14 ci potrebbe stare vedete qui la prossima settimana si è superato questa zona però diciamo che la prossima settimana potrebbe ci potrebbe stare eccolo qua una nuova operazione sel a 1 con un target verso 1 14 224 poi vedremo anche le aperture domenica sera come aprono quindi questa è la situazione su euro d'oro il quattro ore non lo vedo perché praticamente un'analisi settimanale quindi lo bypass andiamo allo yen lo yen praticamente eccolo qua lo yen vedete è riuscito ad il 61 8 classico aria di 50 68 tracciata sull'ultima fase di espansione sull'ultima sulla prima sulla prima fase quindi eccola qua sul primo impulso scusatemi da questo massimo a questo minimo abbiamo questa correzione e adesso stiamo all'inizio di una nuova aria una nuova un nuovo movimento movimento ribassista quindi che segue il treno di fondo praticamente abbiamo la cosiddetta terzo movimento l'estensione quindi impulso correzione ed estensione come facciamo a capire che stiamo all'inizio di una nuova un nuovo una nuova area di espansione e che praticamente il prezzo il 61 8 è stato letteralmente bloccato dal 61 e 8 noi siamo già sella mercato in questo momento c'è stata un leggero una leggera correzione però la situazione al momento vedete ci rimaniamo sempre sotto il livello non convenzionale a 110 eccolo qui 109 997 e quindi il prezzo ha fatto una falsa rottura quindi al rialzo vedete si è andato a prendere questo 68 e poi è sceso verso il basso quindi praticamente molto probabilmente la prossima settimana potremmo assistere ad altre movimentazioni ribassiste ovviamente chi ce lo dirà è anche l'indicazione della resistenza siamo al di sotto il prezzo è chiuso questa settimana sotto la resistenza 109 977 bene questa è la situazione quindi al momento anche qua è da andare sell si vede bene anche sul giornaliero la situazione eccola qua sul giornaliero abbiamo anche in ottica in ottica daily abbiamo anche un pattern armonico ovvero abbiamo una bearish white swan eccola qui vedete bearish white swan con il punto d che si è steso fino a qua e poi c'è stato questo movimento questo giornale da qua e partì un movimento ribassista bene anche qua abbiamo questa indicazione appunto di ribasso partiamo al cable anche sul cable l'indicazione rimane ribassista vedete praticamente anche qua sul settimanale abbiamo un altro pattern armonico ovvero una white swan ribassista eccola qui ed praticamente anche qua abbiamo una situazione quindi di stampo ribassista ciò si vede anche dal eccolo qua da questo movimento giornate molto forti molto decise tutta una serie di breakout anche il nostro price assistant ci da short price action vedete quindi qui abbiamo tutti i breakout uno due tre solo questa però cinque sono tutte movimenti di breakout qua in un'ottica per sondare il terreno abbiamo inserito un'altra posizione di vendita dopo le diverse posizioni vendita che abbiamo chiuso su questa zona che prese diversi punti circa una volta c'è una volta 400 punti quindi abbiamo preso un bel po di punti su queste discese adesso ci siamo messi nuovi sellas venerdì mattina e in questo momento stiamo a 40 punti di profitto però è stato studiato più in ottica giornale anzi in ottica h4 vedete questo è stato il movimento questo pattern armonico rialzista momento è stato invalidato da questo movimento e abbiamo posizionato quindi adesso vado a mettere anche su h4 abbiamo posizionato un ordine piccolo insomma di sopra con un target sopra 132 625 quindi questa è la situazione per quanto riguarda invece usd franco in questo momento diciamo che sono saltate le correlazioni classiche vedete tra sapete che tra euro dollaro e dollaro franco c'è una correlazione inversa ma sono tutte quante in discesa vedete anche in questo caso usd franco anzi in questo contesto ho già ha delineato già dalla scorsa settimana questo doppio massimo doppio massimo con questa falsa rottura proprio a 0 99 eccolo qua 852 questo mio livello non convenzionale eccoli qua quindi questo è il primo massimo questo è il secondo massimo e da qua ci potrebbe stare un nuovo movimento ribassista che è confermato proprio da questa candela settimanale sell la vedete diciamo che è saltato perché per altri motivi soprattutto per quanto riguarda appunto non c'è una in questo caso fra le tre valute dollaro euro e franco sono saltate un po appunto le correlazioni per le situazioni legate appunto al contesto politico monetario delle varie dei vari due tre territori di riferimento dove appunto abbiamo la le valute siamo tradati bene sotto 0 98 700 sotto questo minimo sotto questo supporto incluso qua sotto si potrebbe iniziare ad impostare tutta una serie di operazioni di vendita quindi questa situazione la possiamo andare ad analizzare nel migliore dei modi anche sul giornaliero eccolo qua vedete quindi da qua vedete abbiamo short price action qui price assistant mi da short price action per chi ha a disposizione questo uno strumento utilissimo all'interno che trovate all'interno della mql suite qua abbiamo tutti i breakout quindi tutti i short price action qua sotto si va sell bene passiamo al prossimo passiamo au2 sd settimanale au2 sd settimanale anche qua siamo buy siamo giusti a pochi punti prima poi c'è stata una correzione durante il fin di settimana però l'indicazione vedete qui il prezzo ho messo anche questa linea viola magenta più che altro dove qui abbiamo un doppio minimo vedete come il prezzo qua l'ha testato e poi è schizzato verso l'alto adesso qui abbiamo 1, 2, 3 shadow che proprio si sono appoggiate un'altra volta su questo livello quindi hanno ripreso questo livello c'è una falsa rottura sotto 0,74454 quindi qua è una zona di rimbalzo da qua potrebbe partire un movimento rialzista che potrebbe portare i prezzi fino a 0,78975 per la verità però per sondare il terreno ho già messo un primo target al di sotto il primo base utile ovvero la prima resistenza che potrà incontrare il prezzo 0,76441 quindi siamo buy a mercato in questo caso poi qua abbiamo anche questo pattern armonico rialzista quindi che ci conferma che ci dà una manforte a questo possibile movimento rialzista ed eccolo qua qua abbiamo l'ultimo minimo vedete ultimo minimo il prezzo si è portato prima su questa zona di massimi poi ha fatto un breakout e ritornato verso il basso però diciamo che l'indicazione al momento rimane di stampo rialzista anche qua bene adesso andiamo ad usd card partendo dal settimanale qua la situazione è un po' complessa infatti già lo indicano nel corso di diverse settimane sto in attimo in stand by perché praticamente vedete non la situazione è un po' di difficile interpretazione siamo all'interno di questo canale big canale vedete di rialzista dove il prezzo in passato è stato oggetto anche su questo perimetro vedete e siamo proprio al centro ovviamente potrebbe raggiungere nuovamente questa zona però vedete siamo vicini a 1,30454 la mia idea che siccome stiamo un attimo che vado a conteggiare i punti vicini a questo livello a 50 punti quindi non mi interessano questi 50 punti quindi sopra 1,30454 un close qua sopra mi vado a mettere long fino a raggiungere il 1,32855 quindi l'intersezione tra 1,32855 è il lato superiore di questo canale quindi aspetto un close sopra 1,30454 andiamo a vedere sul giornaliero che cosa ci dice vedete sul giornaliero qua ci sta la movimentazione oddio in un'ottica più spicciola più intraday possiamo andare in questo caso siccome siamo sopra 1,29286 e inoltre che aspettiamo questo 1,30454 quindi si è spostato anche però praticamente molto probabilmente potrebbe fare un pullback e poi risalire su però l'indicazione rimane sempre di stampo rialzista poi vedremo la prossima settimana come si comporta il grafio passiamo all'ultimo maggio al New Zealand dollaro bene su New Zealand dollaro siamo buy a mercato in questo momento perché c'è stato questo rimbalzo vedete questo in ottica settimanale su questa zona che è stata testata diverse volte diverse volte vedete questo è l'ultimo minimo poi abbiamo un minimo più basso poi eccolo qui quindi abbiamo questa zona questo è il minimo più basso eccolo qua quindi un punto di swing è un il bar più basso poi abbiamo due minimi alla sinistra e alla destra che praticamente mantengono questo minimo più basso quindi l'indicazione potrebbe ripartire un movimento rialzista la prossima settimana ovviamente adesso sta un po' diciamo facendo delle false rotture sotto questa linea che ho segnato questo micro supporto ed andiamo a vedere bene la situazione sul giornaliero eccolo qua anche sul giornaliero qua abbiamo un altro pattern armonico che può confermarci al momento non è stato ancora confermato però questa movimentazione rialzista al momento vedete sta un po' impacciandosi sopra 0.68.923 però se si mantiene sopra 0.68.923 il movimento potrebbe essere potrebbe dare una buona spinta rialzista ora oltre alle major come i constitutini io guardo passiamo un attimo a vedere i migliori scenari di questa settimana che ho già dato indicazione all'interno della chat telegram euro yen euro yen abbiamo una bat di bassista vedete bellissima bat bellissimo movimento sul settimanale abbiamo classico 1 2 abcd abcd praticamente vedete qui abbiamo il primo movimento abc ed eccolo qua e questo diciamo è la fase di estensione vedete quasi è fermato se vado a tracciare anche fibonacci in modo tale da poter capire dove è finito eccolo qua vedete ha terminato proprio al test del 50 quindi questo è un abc oppure meglio potrebbe anche essere onda 1 onda 1 di heliot quindi ci sono tutti gli studi oltre al pattern armonico ribassista questa è l'onda 1 ok questa è l'onda 2 e questa è l'onda 3 che seguendo abcd onda 1 e 2 e 3 e questa è l'area in cui potrebbe terminare già l'ho segnato l'onda 3 l'onda di estensione più importante secondo la teoria di heliot e questo è una zona dove posso andare a inserire un un'ulteriore operazione ribassista qua sotto si va sel quindi abbiamo un altro ottimo spazio per poter entrare sel la prossima settimana quindi potremmo andare ad impostare un'operazione già domenica sera di stampo ribassista con un movimento di a meno 400 punti 400 420 punti sul giornaliero si vede eccolo qua vedete c'è stato un rimbalzo non l'ho messo sul settimanale però 127 615 quindi molto probabilmente l'indicazione rimane ribassista però ancora meglio se si aspetta una correzione ovviamente c'è stato questo vedete come ha toccato come sono molto delicati questi livelli vedete forti questi livelli come ha toccato diciamo si è appoggiato vedete falsa rottura quindi da qua a qua mi vado a segnare un fibonacci ok mi attendo quindi se chiude lunedì sera sotto 127 615 io entro sel se invece rimbalza mi aspetto meglio io preferisco il rimbalzo così praticamente il movimento diventa più forte in questa zona 50 62 8 per andare sel quindi le strade sono due o si mette un sel limit già domenica sera su questa zona sul 50 a 129 242 oppure si aspetta nel caso in cui non lo va a prendere lunedì la prossima seduta la prima seduta della settimana avremo ovviamente un close sotto 197 615 possiamo sfruttarlo per poter entrare al mercato sotto al minimo di questo candela close di questo close ovviamente però dobbiamo stare attento a giovedì che ci sta la banca centrale europea poi vedremo dove andremo a posizionarci come saranno i movimenti poi passiamo anche ad autocad autocad praticamente ecco questo è la classica indicazione di pazienza e perseveranza io qua avevo un buy un buy se vi dico che l'ho aperto esattamente il 23 marzo vedete in marzo io ho allargato lo stop perché sapevo che prima o poi su questa zona il prezzo iniziasse una movimentazione una movimentazione a rialzo perché soprattutto vedete nelle ultime l'ultima l'ultima settimana le queste vedete il prezzo come è sceso giù di 700 punti si è appoggiato su questa zona adesso vedete si è appoggiato anche qua su questa è una zona forte zona di supportiva o di demanda vedete qua si è appoggiato qui esattamente nel novembre 2017 c'è stato questa decisa movimentazione rialzista la stessa cosa è andata a riprendersi questa zona vedete ha fatto sta facendo la stessa cosa quindi dobbiamo seguire dobbiamo copiare quello che ha fatto in passato qua ci sono delle shadow qua ci sono altre shadow e quindi l'indicazione rimane sempre di stampo rialzista ok quindi vedete come qua abbiamo due pin l'avevo già indicata nella scorsa settimana ho chiuso qua le prime tre operazioni primo target precisamente ho dato indicazione all'interno della chat tele adesso non ricordo comunque sono tre target adesso vado a vedere adesso andiamo a vedere proprio sul tra un po' quando andiamo a vedere anche lo score tutte le operazioni del mese di mangio e questa è la situazione quindi per passiamo al giornaliero qua abbiamo un pattern armonico quindi allora abbiamo un pattern armonico sul giornaliero che mi conferma il long vedete questo è classico 1 2 poi estensione adesso qua aspettiamo 0 sicuramente ci sarà una correzione ecco perché me ne sono uscito dal mercato aspetto la correzione per poi puntare nuovamente verso l'alto sul h4 qua si vede bene abbiamo un altro pattern rialzista stesse spalla vedete questa è la prima spalla questa è la testa questa è la seconda spalla nel colline ok quindi anche qua vedete qua ha terminato ecco qua io chiuso le tre operazioni vedete ho chiuso le prime tre operazioni poi vado a caricare altre operazioni a fine di questa correzione stavo aspettando un'altra correzione quindi qua abbiamo per chi ha seguito le mie indicazioni all'interno della chat telegram abbiamo preso 150 punti 160 punti quasi prima operazione 160 seconda operazione eccola qua quasi 100 punti e terza operazione l'ho messo un po più su altri 55 punti quindi abbiamo già preso un bel po' di punti su questa operazione bene adesso andiamo a vedere in finale siamo quasi alla fine del mese quindi possiamo iniziare già a trarre le nostre conclusioni al momento il mese di maggio mi sta portando 3554 punti al momento è il migliore mese del dell'anno l'anno 2018 è partito un po' in stand by gennaio febbraio e marzo non è che siamo andati molto benino dico la verità poi gennaio febbraio marzo così così aprile siamo andati bene maggio benissimo quindi praticamente siamo ritornati sono ritornati in carreggiata ma questo mese è stato fantastico 3554 punti queste sono tutte le varie operazioni quindi se volete vi posso mandare anche il lo score all'interno le ho messe perché per evitare diciamo gli ingressi al mercato per evitare appunto metto il foglio excel appunto anche per per conteggiare bene perché praticamente non me lo permette di conteggiare la piattaforma mt4 e niente questo è lo score il totale vedete qua il profitto per operazione e questo è il totale quindi dal 33554 punti ci sono questo è il totale quindi già c'è la differenza anche degli stop loss ovviamente gli stop loss qualche stop loss ci sta però alla fine l'importante è chiudere essere paziente e chiudere praticamente chiudere sempre il mese in positivo ok signori io ho terminato vi ringrazio per la vostra attenzione vedete che sono 97 operazioni questo mese abbiamo lavorato parecchio ho fatto lavorare parecchio il mio conto bene e sono tutte operazioni che trovate all'interno della chat telegram ok io vi ringrazio per l'attenzione buona fine settimana a tutti e ci aggiorniamo quindi nel prossimo diretta live nel prossimo appuntamento anzi per chi vuole ulteriori indicazioni qua ho messo anche le varie informazioni dei miei contatti contatti Giancarlo Chioccio al teletrade-dj.it contatto telegram Gianchi122 e poi facebook se mi volete contattare da facebook e il link per potervi iscrivere alle dirette live ripeto dirette live che si terranno ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10 quindi apertura dei mercati più le varie indicazioni di trading insieme a me Emanuela Negro di trading Rumba Roma e poi il pomeriggio sempre dalle ore 15 alle 15.30 alle 15.40 facciamo un'apertura dei mercati americani dal lunedì al giovedì poi abbiamo tutta una serie indicazioni webinar il prossimo webinar vi posso dire che ci sarà il 30 maggio con diciamo si parlerà di indici di una strategia come operare con gli indici e poi tutta un'altra serie di webinar eccetera eccetera ci saranno anche degli appuntamenti a fine mese di giugno poi per chi è interessato sarete informati sia all'interno dei nostri canali nei nostri media canali facebook twitter instagram telegram e chi ne ha più ne metta sul nostro portale quindi praticamente avremo tutta una serie di indicazioni inerenti anche a fine mese stavo dicendo abbiamo anche degli appuntamenti nella nostra bellissima trading room a Roma quindi per chi è interessato si può già da penso tra una settimana potrebbe anche iniziare a fare l'iscrizione per poter appunto in modo tale da poterci vedere anche da vicino e conoscerci quindi bene non solo da punista della voce anche diciamo con una stretta di mano bene grazie mille per l'attenzione di nuovo e vi do una buon fine settimana ricariciamo le pile per la prossima settimana sempre più alla grande buon fine settimana a tutti